Musica Nuovo appuntamento con Confagricoltura Notizie, la nostra rubrica settimanale che affronta i temi più attuali del mondo agricolo, oggi temi caldi, imposte e tasse, lo facciamo con la zona di Cuneo che conta 15 addetti tra collaboratori, professionisti e dipendenti. A Cuneo troviamo un ufficio di zona e sette uffici di recapito, oggi in studio ho il piacere di avere il responsabile della zona di Cuneo, Adriano Rosso e Giada Armando dell'ufficio fiscale, ben trovati. Grazie. Allora entriamo subito in Medias Res, parliamo della legge di stabilità perché per parlare di tasse ed imposte dobbiamo passare attraverso questa normativa, tra l'altro Confagricoltura ha avuto anche un ruolo particolarmente attivo durante la discussione della legge. Sì, il risultato più importante conseguito è sicuramente l'eliminazione dell'Imo agricola e dell'IRAP che dal 1 gennaio 2016 scompariranno o dovrebbero scomparire dalla platea delle tasse che colpiscono il mondo agricolo. Parliamo di cifre importanti perché il taglio è di circa 800 milioni di euro per il settore agricolo. La sola Imo agricola coinvolgerà una platea di oltre 3 milioni di soggetti con un risparmio in tasse ed imposte di oltre 550 milioni di euro. Inoltre lo sgravio per le zone montane e collinari che era stato abrogato dal 1 gennaio 2014 rientra in vigore con un ulteriore risparmio di 260 milioni per le aziende. Nella sola provincia di Cuneo le aziende interessate da questi tagli sono oltre 30 mila. Va inoltre anche detto che dal 1 gennaio aumenterà la liquida di compensazione per il latte, dando un po' di ossigeno a un settore che è in forte crisi ed evitando alle aziende di versare un punto virgola 2 sull'imposta IVA del latte. Un'altra novità che coinvolge tutti, ma anche il mondo agricolo, è la scomparsa, o almeno così dovrebbe, dell'imposta Tasi sull'abitazione principale, sempre a far data dal 1 gennaio 2016. Dottoressa Armando, parliamo anche delle agevolazioni da parte degli agricoltori nell'acquisto dei terreni agricoli. Queste agevolazioni sono vacillate durante la stesura della bozza della legge di stabilità, hanno rischiato di essere addirittura eliminate? Sì, infatti in una prima versione della manovra si parlava di eliminare le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei terreni agricoli o di portare la tassa di registro da una percentuale dell'1% alla percentuale del 4% per gli imprenditori agricoli a titolo principale e per gli agricoltori diretti. Questo però, oltre a rappresentare un forte aggravio alla ricomposizione fondiaria, avrebbe aumentato anche la speculazione per l'acquisto di terreni agricoli da parte dei non addetti al lavori. Dopo le pressioni però e le osservazioni presentate da Confagricoltura e dalle altre componenti agricole a livello nazionale, siamo riusciti ad ottenere il mantenimento della tassa di registro all'1% legata allo strumento della PPC, ovvero della piccola proprietà contadina. Purché i terreni oggetto dell'acquisto siano condotti direttamente dal coltivatore diretto per un periodo di almeno 5 anni. Tornando all'eliminazione dell'Imu agricola, dell'Irap, si ha paura che queste escano dalla porta principale e poi magari tornino anche con un altro nome. Di questo rovescio della medaglia, chiamiamolo così, Confagricoltura si è già occupata. In che modo? Sì, effettivamente abbiamo il forte timore che il mancato introito del gettito fiscale venga riversato con nuove imposte o altre imposte aggiuntive sull'azienda agricola. Infatti non è del tutto chiara da parte del governo il reperimento delle risorse che andranno a coprire il mancato introito. Il timore maggiore è rivolto verso la piccola proprietà contadina di cui ha parlato la dottoressa Armando Pocanzi con un ulteriore aggravio del carico impositivo per le transazioni di terreno da parte di coltivatori diretti e IAP. Sempre nel minuto del fisco rimane il gasolio agricolo che potrebbe avere una riduzione sia del bacino di utenza sia con un aumento delle accise in tal senso. Inoltre è stata appaventata l'ipotesi dell'eliminazione delle zone roiva delle aziende con volume di affari inferiori a 7 mila euro che finora avevano goduto dell'esenzione della tenuta delle scritture contabili. Parliamo di tasse imposte tra l'altro in questo periodo perché è un periodo particolarmente impegnativo non dobbiamo dimenticare nulla e Confagricoltura ci aiuta anche in questo perché voi vi occupate sia di aziende agricole ma anche di tutti gli utenti che si vogliono avvicinare ai vostri tanti servizi. Allora vediamo quali sono le scadenze imminenti. Sì, il prossimo 30 di novembre scadrà il secondo acconto dell'IRAP e il dell'IRPEF e il secondo acconto è probabilmente l'ultimo dell'IRAP che verrà abrogata e il 16 dicembre andranno in scadenza i saldi dell'imposta IMO e Tasi dovute per il 2016. Come responsabile della zona di Cuneo siamo a disposizione di tutte le aziende agricole e dei coltivatori che si possono rivolgere a noi per la compilazione dei modelli e per la gestione di questa complessa e intricata matassa dei tributi locali. Sono molte dunque le informazioni ma sono tutte reperibili, lo ricordiamo, sul sito www.confagricoltura.it. Io intanto ringrazio i nostri ospiti in studio, il responsabile della zona di Cuneo, Adriano Rosso e Giada Armando, ufficio fiscale. Grazie ancora e io vi do appuntamento alla prossima domenica per una nuova puntata di Confagricoltura Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.